buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video live di todefras 2019 oggi siamo qua con la sprint challenge una gara inventata diciamo da me siamo con la gruppo ma fdc con arnaud de mar e tappa piatta il nostro treno con gli ortogornieri tappa piatta senza alcune difficoltà qualche valore non è una cosa extra difficile abbiamo le gambone di arnaud de mar vediamo che abbiamo una gamba arnaud de mar stiamo in gruppo possiamo provare a far uscire ad esempio lui vediamo di di fare lo uscire segui gli attacchi giusto per provare una fuga per vedere come va tanto e c'è la differenza stage today e poi sarà difficile che arrivi qualcuno in fuga che insieme a titolare se la fuga speriamo che esca il gruppo va via andatura tranquilla tutta la gruppa ma è lì davanti per arnaud de mar che lo stiamo pilotando noi andata avanti per l'altra andata avanti a fuga vediamo la bionda est offredo e bittima one t go bear one t go bear vediamo che squadra è la way in rift l'altra sono stati lo uscire sempre attacchi contro attacchi per cercare di liberarsi di qualcuno quindi continuiamo a stare con arnaud de mar perché siamo sicuri che hanno un minuto di 3 minuti e 10 che si sta stabilizzando e sta perdendo qualche secondo la fuga mi trovano troppo caldo collaborazione i corridori si danno cambio la Danions sta collaborando la tappa totalmente piatta il gruppo la fa fare per ora non si preoccupa più di tanto della fuga mancano ancora 70 km al traguardo adesso stanno un po' in salita la tappa dopo inizieranno le piccole discese con il traguardo volante il traguardo volante per poi dopo avere un'altra piccola difficoltà e dopo uno sprint intermedio noi ci teniamo vediamo chi lo vince lo sprint ho freddo secondi con provare Modemar a uscire a tagliare davanti il traguardo Modemar a prendersi qualche punticino tanto non ce ne sono il gruppo è meglio che impostare un ritmo alto perché i corridori comunque hanno un po' di vantaggio per un attimo trovare secondo traguardo volante 16 km al traguardo 16 km al traguardo togliamo preparo lo scatto per Arnaud Demare che è entrato che è entrato che è un giorno c'è un insieme anche se c'è un insieme davanti troviamo e spero che abbiamo mostruito alle due anche cerchiamo di recuperare un'attività di un'attività più da ripresa non è troppo veloce non è pure troppo forte vediamo prendere il premio un po' dietro andiamo avanti i nostri uomini il Tiff Demo di Jacopo Guarnieri qui per noi non mi raccoglio 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 10 km stiamo andando verso il Mastritt è un'opportunità di ottenere i punti per il ciclo di giro 10 km al traguardo siamo a demare il ruoto di Jacopo Guarnieri non c'è più paura quace un'agone che è una ruota di Jacopo Guarnieri è una ruota separati quel problema che segue The Ghent e Coski siamo ok su gruppetti 7 km del traguardo, si svegna a provare a rubarci la ruota e i guarnieri e superiamo un attimo. E quando sei? 5 km alla conclusione, siamo fino alla zona. Vedo una ruota seguita da Carbiguan e Sembrano, mentre noi stiamo a ruota via per i guarnieri che ci guida. Questa di fare un miglior lavoro, che treno, la gruppo amato, che treno, la gruppo amato in serro. Si è accelera. Perversione di... Si va adesso, ultimo chilometro, Matti Moritz. Ma rosa. Ultimo chilometro, parterna de mare, Michael Matthews, Arnaud de mare, ma sono troppo lontani, attenzione, attenzione, sono più diseguiti, attenzione, attenzione Arnaud de mare. Arnaud de mare, Arnaud de mare, va a vincere. Arnaud de mare, che volata ragazzi, li ha passivi al triplo della velocità. Il nostro Arnaud de mare, che lavoro di Jacopo Guarnieri della gruppo amato, un grandissimo lavoro. Bellissima volata per lui, grande grande grande, ci sono stati veramente bravi, un bel lavoro per la gruppo amato. Grandissimi, grandissimi. Bellissima, questo... questo sprint. Allora, il full on. Allora, il full on. Odio, uno de mare. Eres today, stage winner, Arnaud de mare. Che forte, è fortissimo. Vediamo la classifica. Abbiamo Arnaud de mare, seguito da Andre Greppel, Van Avermaet della CCC, Kierkowski della INEOS, Kare B1 della Lotto Soudal, Groenewegen della Jambovisma, Moritz della Baymerie, Sagan della... Peter Sagan, scusate della... Borat, Borat, Groene, e... chi lui non lo so, Dero Soudal, Serro, e Michael Matthews, in cesima posizione. vediamo la classifica squadra, Arnaud de mare, Serro, Holigard, Moller, Drogs, Guarnieri, Reimbach, Logo, Moldaus. Comunque, primi, decimi, sedicesimi, sedicesimi, diciottesimi, ventiduesimi, sessantottesimi e centosessantaduesimi. Molto, molto, molto bene, direi. una bella gara, quindi raga io stoppo qua la trasmissione e noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.